Mobile World Congress 2018 Stand Wiko, siamo qui per provare il nuovo Wiko View 2 Pro, un dispositivo interessante innanzitutto per il form factor. Come potete vedere qui abbiamo un display con rapporto d'aspetto 19,9, ben 19,9 per questo display, un dispositivo che è molto molto interessante perché sul frontale abbiamo un doppio sensore da 16 più 16 megapixel con doppio flash LED dual tone, lettore di impronte digitali, back panel arrotondato, assomiglia un po' ad alcuni smartphone Honor per quanto riguarda il back panel, poi però andando a girare ci si trova davanti a questo particolarissimo display che lascia spazio praticamente solo e soltanto alla camera frontale, una camera da 16 megapixel anche questa, chiaramente non ci sono tasti soft touch né tasti fisici per lasciare spazio al display ma solo e unicamente tasti a schermo. Processore octa-core, 4 più 74 GB l'equipaggiamento di questo dispositivo, quindi 4 GB di memoria RAM e 64 GB di memoria interna. Ci aspettiamo che sia un device che possa arrivare già in commercio a partire da aprile, chiaramente il riconoscimento facciale per questo dispositivo e soprattutto video stabilizzati sia con la camera posteriore che con la camera frontale. Per il momento è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!